ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ci siamo su brawl stars allora intanto prima di tutto vi ricordo di iscrivervi e lasciare un bel pollice se ancora non l'avete fatto quindi dopo che vi iscrivete attivate anche la campanellina è molto importante per tenere gli aggiornamenti per tenere per vedere gli aggiornamenti dei nuovi video io mentre qua sbatto contro la serie quindi non sapevo in realtà non mi sono fatto male che ha fatto di sicuro un po di rumore ah boh non ci fate caso se ho fatto un po di rumore e forza iniziamo subito il video sarà cortissimo tipo due minuti sarà perché io il video li faccio perché in pratica un altro mio nemico sempre youtube perché in un video ho detto si chiama su player su youtube in pratica mi ha detto che io devo fare video più spesso visto che ho poco tempo i video io i video io li faccio tipo quasi ogni volta ogni giorno però li faccio piccoli perché mica li posso fare lunghi perché poi tempo io non ce ne ho tanto se ne avrei tante ancora ancora ne fare non ci provare contro di ti finisce male voglio che lo sai non ce ne ho tanto amico roberto roberto non ce ne ho tanto amico roberto 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 che da partire è durata tanto no ma quanto hanno aumentato le cose alle coppe c'è uno nove c'è uno e al grado 4 mi da 7 massimo noi in 2 si 7 raramente e raramente sei invece ora hanno aumentato un botto mi ragazzi il video finisce qui vi ricordo di iscrivervi al mio canale ti vorrei la campanellina lasciare un like ditemi anche mi sono ricordato due cose di voi ditemi se tipo c'è c'è un gioco che vi piace non c'è crash royale o poi non c'è un gioco horror che i giochi horror anche anche se alcuni tipo granny non fanno paura tipo alcune volte infatti io ho detto io c'ho un mio amico che c'è un gioco horror c'è granny che non fa paura infatti granny però io ci ho giocato però una volta ho detto guarda che ora spunta granny spunta granny granny non spunta giro un angolo e mi spunta davanti che io non me l'immaginavo che mi spunta vada che qui non c'erano giochi horror basta ci rivedremo un prossimo video ciao 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 ciao